Per utilizzare il tettuccio esterno del vostro California innanzitutto aprire il cassetto situato sotto il sedile e prendere l'apposito polo bianco. Inserire la cima del palo nel meccanismo e svitare aprendo il tettuccio fino a circa un'apertura di 50 centimetri. A questo punto estrarre le gambe pieghevoli all'interno di quest'ultimo in modo che possano sorreggerlo durante il resto dell'apertura. Per utilizzare il tavolino da esterni semplicemente sbloccare la serratura. Una volta portato all'esterno il tavolino dovrete semplicemente dispiegare le gambe. A questo punto rimane semplicemente da estrarre le sedie dal campeggio. Queste sono situate nel vostro portabagagli. Aprire la zip, sbloccare le sedie e semplicemente aprirle accanto al vostro tavolino. A questo punto rimane semplicemente da un'apertura di un'apertura di un'apertura di un'apertura di un'apertura di un'apertura di un'apertura.